buongiorno sud buona domenica a tutti e bentrovati anche oggi 25 ottobre prima di proseguire con le consuete notizie del nostro almanacco vi ricordo che nella notte appena trascorsa precisamente alle 3 l'ora legale ha lasciato il posto all'ora solare se non l'avete già fatto infatti dovrete spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro in questo modo farà buio prima ma vi sono anche dei lati positivi almeno per oggi avrete dormito un'ora in più il sole sorge in puglia alle 6 e un quarto e tramonta le 16 e 58 in basilicata sorge alle 6 e 14 e tramonta le 17 e 7 minuti in molise sorge alle 6 e 20 tramontare 17 e 10 la luna sorge alle 12 e 47 e tramonta le 22 e 31 la fase lunare e la luna nuova oggi la chiesa festeggia santa daria crisanto figlio di un certo polemio di origine alessandrina venne a roma per studiare filosofia e qui ebbe l'occasione di conoscere il presbitero carpoforo e si fece battezzare il padre polemio cercò in tutti i modi di farlo tornare al culto degli dei servendosi della bella vestale daria ma crisanto riuscì a convertire daria e di comune accordo simulando il matrimonio furono lasciati liberi di predicare convertendo molti altri romani al cristianesimo scoperti furono affidati al tribuno claudio che però si convertì insieme alla sua famiglia e ai 70 soldati della guarnigione che aveva in custodia gli arrestati scoperti vennero tutti condannati a morte dallo stesso imperatore numeriano crisanto e daria furono condotti sulle via salaria gettati in una fossa e sepolti vivi oggi inoltre ricordiamo san mauro e beneria sposi e martiri chi compie gli anni oggi auguri all'attrice teatrale televisiva lauretta masiero che compie 82 anni alla politica italiana stefania craxi che compie 49 anni e all'attore italiano pietro sermonti che ne compie 38 diamo uno sguardo a cosa è accaduto il 25 ottobre nel 1760 giorgio terzo diventa re del regno unito nel 1936 adolf hitler e benito mussolini concordano l'asse roma berlino nel 1945 il giappone consegna taiwan alla cina e nel 1971 le nazioni unite accolgono la repubblica popolare cinese ed espellono la repubblica di cina si conclude oggi a bitonto la prima edizione del festival dell'olio in piazza sono allestiti stand di degustazioni di piatti a cura dei ristoratori locali e stand di degustazione di vino per i frantoiani produttori invece spazio alla vendita inoltre potrete scoprire il patrimonio artistico e culturale di bitonto e assistere alle operazioni di raccolta delle olive nelle campagne e di molitura nei frantoi e infine assaporare nei ristoranti tipici convenzionati le più interessanti specialità della tradizione culinaria se abbiamo il sospetto che il vino che abbiamo di recente acquistato non sia dei più genuini possiamo sottoporlo ad una prova rapida e semplice munirsi di un filo di lana bianco e immergerlo nella bottiglia incriminata passare subito dopo lo stesso filo nell'aceto se diventa blu il vino è di ottima qualità se invece assume un colore rosso brillante allora i nostri dubbi erano ben fondati ascoltiamo i consigli delle stelle per oggi ariete vi sentirete pronte a qualsiasi evenienza avrete slancio e spirito di iniziativa questo giorno pertanto potrà essere produttivo e ricco di soddisfazioni per rendere più elettrizzante la serata un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica toro due temi in primo piano in questo giorno la vita affettiva e il denaro in entrambi i campi ci sarà un'alternanza di momenti positivi e di momenti difficili ma nel complesso le possibilità di riuscita sono buone gemelli trascorrerete una giornata piacevole in cui vi sentirete sereni e scherzosi creativi nel vero senso del termine finalmente liberi da alcune preoccupazioni cancro non fatevi prendere la mano dai sogni e dalle aspettative in amore come nelle amicizie potrebbero riservarvi delusioni e farvi perdere di vista le cose buone che avete a disposizione leone la fortuna vi sosterrà e vi offrirà opportunità splendide nella vita privata e nel lavoro gli astri vi impegnano più del dovuto ma assicurano anche qualche soddisfazione economica vergine un programma della giornata dovrà essere rimandato o cancellato a causa di un imprevisto non prendetevela e cercate piuttosto di coglierne risvolti positivi il segno della bilancia vi sentite in splendida forma in grado di poter fare tutto quello che volete e sarà certo così perché gli astri vi appoggiano in ogni sfera della vostra esistenza siete dotati di serenità e ottimismo scorpione è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno professionale soprattutto per quanto riguarda gli aspetti finanziari troverete le risposte che cercate e le certezze che desiderate sagittario non si può dire per voi oggi che l'umore sia dei migliori e che godrete di una forma fisica strepitosa sarebbe una bugia in ogni caso non bisogna drammatizzare basterà qualche piccola precauzione capricorno un po di stanchezza dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana vi toglie un po di entusiasmo e di energia lasciate perdere i programmi più stressanti della giornata acquario una buona occasione professionale va accolta al volo fidatevi del vostro intuito e della proposta che qualcuno vi farà lavoro a parte non mancheranno neanche inviti e proposte di viaggio e divertimento infine il segno dei pesci oggi la cosa migliore sarà starsene tranquilli dedicare tempo a voi stessi praticando magari sport e cercando di scaricare le tensioni in modo sano e prima di salutarci ascoltiamo le parole del nostro proverbio la penitenza corre dietro al peccato e io vi ricordo che l'almanacco torna anche domani mattina naturalmente su antennasù che potete contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica almanacco chiocciolantenasù.com per segnalarci eventi o date da ricordare arrivederci a domani